Il soggetto numero 5, crisi aste caro energia, chiarimenti sulle misure urgenti che l'Aggiunta regionale intende attuare per il sostegno all'industria energivore, interroga il consigliere De Luca risponde Morroni o Fioroni? Fioroni. Bene, prego consigliere De Luca per l'illustrazione. Grazie Presidente, ma con questa interrogazione che nasce da quelli che sono gli eventi delle ultime settimane, le comunicazioni da parte della società Arbetiast in data 9 settembre scorso che hanno nei fatti rappresentato una realtà in cui la contrazione sostanzialmente del mercato di riferimento, determinando un calo delle commesse di lavoro, così quanto meno dichiarato, imputabile secondo loro in particolar modo agli elevati costi di approvvigionamento dell'energia elettrica, a causa di questa denunciata situazione si trova ora a dover ridurre la propria attività, nei fatti dichiarando quindi una richiesta di intervento della cassa integrazione ordinaria in una fase che sostanzialmente riguarderà dal giorno odierno, quindi dal 24 settembre 2024 fino al 30 settembre 2024 per 200 dipendenti, quindi una piccola interruzione che però nei fatti è legata a una situazione di crisi denunciata che nei fatti dovrebbe rischiare di ripresentarsi nelle prossime settimane. Premesso ovviamente che il costo dell'energia è considerato uno dei nodi fondamentali da sciogliere in merito all'approvazione dell'accordo di programma che ormai da due anni attendiamo con estrema impazienza e che nei fatti sbloccherebbe quelli che sono gli investimenti pubblici legati al PNRR e alla cosiddetta misura alto abate congiuntamente a quelli che sono gli investimenti privati da parte dell'azienda per un ammontare complessivo di circa un miliardo di euro e che questa firma dell'accordo sia per dichiarazione della Presidente che per dichiarazione del Sindaco Pantecchi è stata sempre data per imminente, ma ribadisco sono due anni che non ha trovato seguito rispetto a quelle che erano le linee guida del piano industriale già presentate ormai nell'aprile 2022, che ovviamente questo stallo che si protrae da troppo tempo rischia nei fatti di mettere in crisi la possibilità di far perdere quello che è il treno dei contributi pubblici, oltretutto come ben sappiamo legati anche alle tempistiche del PNRR che secondo quanto riportato da diversi organi di stampa e anche alla risposta di un'interrogazione question time da parte del Ministro dello Sviluppo Economico Adolfo Urso, leggo testualmente il governo si è già mosso ma sul tema energetico il sussidio diretto non è possibile se no per investimenti, questo già lo sapevamo, abbiamo formulato l'ipotesi di risoluzioni compatibili con il caso Arvedi-Ast e ne daremo eventuale comunicazione, in ogni caso le divergenze con altri paesi sono riconducibili al ricorso massiccio delle altre nazioni nucleare e noi in questo senso ci stiamo muovendo. Considerando quindi che nell'interpretazione di queste parole che definiscono come soluzione la realizzazione quindi di un impianto nucleare, nei fatti stiamo parlando di soluzioni che hanno delle tempistiche oggettive e improcrastinabili di almeno 10 anni e che quindi non sono in alcun modo state poste sul tavolo delle soluzioni immediate così come è richiesto invece dalla proprietà Arvedi-Ast considerato che, e concludo Presidente, l'articolo 21 lo sa bene l'assessore Morroni, mi dispiace che non c'è, avrei voluto magari un contributo anche da parte sua, l'articolo 21 della legge regionale 1-2023 qui abbiamo lavorato insieme e vedo uno dei suoi protagonisti, il consigliere carissimi di quella legge, l'articolo 21 cessione di energia prevede che secondo poi oltretutto quelle che erano le opportunità previste dal primo decreto di semplificazioni che a decorrere dal 2023 i concessionari di grande derivazione d'acqua a dosi idroelettrico sono obbligati a fornire gratuitamente e annualmente dalla regione alla regione, scusate, energia elettrica in regione di 220 kW per ogni kW di potenza nominale media di concessione, sostanzialmente parliamo di circa il 5% del fabbisogno energetico di AST, secondo il bilancio di sostenibilità del 2023, 1024 GWh, facendo semplicemente i dovuti calcoli, siamo a circa il 5,3% di questo fabbisogno energetico, considerato inoltre che questa legge regionale prevede fra le varie opzioni all'articolo 9 della prossima riassegnazione delle concessioni che nei fatti già interessa alcune centrali ma interesserà la parte più sostanziosa ovvero il polo idroelettrico e termico del 2029 e prevede fra le varie opzioni la costituzione di una società a capitale misto pubblico privato, la legge nazionale prevede varie formulazioni quindi sia una gara a doppio oggetto che forme di partenariato come accade per altre secondo ovviamente seguendo i dettami del codice degli appalti, è evidente come oltretutto questa assemblea si sia espressa attraverso la deliberazione 296 del 2023 prevedendo di procedere allo studio di fattibilità per la costituzione di una società misto pubblico privata alla quale concedere in affidamento le grandi derivazioni idroelettriche o umbre in modo tale che la neocostituita società sia deputata a gestire la produzione, trasmissione, trasformazione, distribuzione e vendita di energia elettrica degli impianti, è utile a valorizzarne le specificità territoriali, tecniche, economiche e assicurare il riconoscimento dei benefici da essi derivanti ai cittadini Umbri, ho letto testualmente, considerando che la creazione di una società misto pubblico privata, ripeto così come prevenso, avrebbe il duplice effetto di garantire da una parte la possibilità ovviamente di moltiplicare i benefici e gli introidi per la collettività Umbra e contestualmente di poter permettere anche a un soggetto privato come AST di poter entrare quindi all'interno della compagine societaria e quindi poter beneficiare come socio imprenditore di quelli che sono ovviamente gli utilizzi di un'energia allocata in maniera di prossimità rispetto a quello che sono il consumo, si interroga la giunta regionale per sapere quali siano le misure che la giunta regionale intende mettere in campo per i noti problemi sollevati da arpe di AST relativamente ai costi energetici, nella fattispecie si chiede di specificare se si sia proceduto allo studio di fattibilità per la costituzione di una società misto pubblico privata come da impegno della deliberazione dell'assemblea legislativa 296 del 28 febbraio 2023 e se si intende procedere verso questa prospettiva o se come affermato il ministro dello sviluppo economico si stia lavorando al ricorso massiccio al nucleare in quali termini e scadenze. Grazie. Grazie consigliere De Luca, prego assessore Fioroni per la risposta. Sì, Presidente mi prenderò un po' di tempo per una risposta che è complessa anche perché per la domanda visto che il consigliere De Luca si è anche un po' giocato in minuti della probabilmente risposta. Faccio una premessa, è doverosa perché quella che si gioca a Terni non è una partita di Terni, quella che si gioca a Terni è una partita dell'Italia e una partita dell'Europa perché non possiamo prescindere da uno scenario globale che vede l'acciaio italiano ma in generale più quello europeo che è costretto oggi in uno scenario competitivo dove da una parte abbiamo una Cina la cui sovrapproduzione di acciaio è stata sostenuta dal governo cinese che l'ha portata a poter esportare a prezzi più bassi facendo di fatto una politica di dumping e una concorrenza sleale sul mercato. Abbiamo una politica protezionistica degli Stati Uniti che di fatto tutela il settore siderurgico, tornando alla Cina, quella stessa Cina con cui ai tempi il Presidente Conte aveva concluso accordi di partnership commerciale che peccato che i nostri prodotti che vengono prodotti a base d'acciaio hanno un costo energetico e hanno un costo più elevato anche perché le politiche scorrette che il governo cinese fa. Detto questo, quando parliamo noi di tema dell'acciaio e parliamo in modo speciale dell'accordo di programma di AST, il tema energetico dobbiamo capire che si pone fuori dall'accordo di programma pur essendolo strettamente correlato, ovvero l'accordo di programma che oggi di fatto è giunto a compiimento ha avuto l'ostacolo più importante e superato che era quello di una deroga da Bruxelles relativamente al sistema degli aiuti di Stato, ottenuta questa deroga che era la condizione più stativa che andava a vedere e valutare il perimetro degli investimenti sostenuti dallo Stato, il problema si pone su un ambito diverso, ovvero per poter produrre un acciaio che è totalmente decarbonizzato, che mette l'idrogeno nel processo produttivo, la vera sfida è quella di produrre l'acciaio da fonti rinnovabili e su questo ci sarebbero condizioni ideali e uniche che rendono Terni, l'unica acciaieria che è direttamente collocata in vicinanza di una grande derivazione e quindi sarebbe fattibile un PPA. Il tema si pone in questo punto con chi fornisce l'energia, quindi un'attività richiesta e dalla Presidente Tesei ripetutamente che ha richiamato un'ulteriore convicazione congiunta con il Ministro Urso, nessuno ha mai parlato di nucleare per Terni, il Consigliere Luca la tranquillizzo, il tema è quello dell'elettricità, è quello del costo dell'energia perché gli investimenti di Terni sono e fatti dal gruppo AST per produrre il miglior acciaio come qualità ma soprattutto il miglior acciaio come sostenibilità. Per questo processo produttivo serve mettersi al tavolo, in modo particolare con Enel su cui la Presidente Tesei ha iniziato anche tramite il Governo a fare un'attività importante di moral suezion affinché il tema specifico di AST venga considerato da Enel come un elemento unico per le sue caratteristiche, quindi un qualcosa derogabile anche a meccanismi tradizionali di mercato anche perché, ripeto, in questo momento c'è in ballo una problematica che non impatta le acciaierie di Terni, non impatta l'Umbria ma riguarda la competitività del sistema siderurgico europeo e oggi tutta la crisi che noi abbiamo anche sull'automotive, un ulteriore elemento che contribuisce a indebolire un sistema siderurgico che soprattutto per quanto riguarda l'Italia si è sempre caratterizzato per una produzione di acciaio ad altissima qualità o un'altissima innovazione tecnologica che ha visto però in una politica miope sul versante energetico una scarsa considerazione di quello che è il tema dell'importanza delle rinnovabili. Su questo, ripeto, si stava lavorando, la Presidente 6 oltre a incontrare prontamente le parti sociali e in modo particolare le parti sindacali ha chiesto una convocazione urgente e congiunta sia con il Ministro Urso che con il Ministro Picchetto Frattin e ha richiesto un ulteriore incontro a Enel per affrontare il tema energetico che, ripeto, si parte, l'accordo di programma si potrebbe anche firmare oggi ma quegli investimenti che l'azienda dovrebbe fare verrebbero inficiati da un costo energetico che renderebbe tuttora oggi l'acciaio non competitivo a livello internazionale. Grazie, Assessore Fioroni. Prego, Consigliere De Luca per la replica. Io sono allucinato. Praticamente la Regione Umbria, lo Stato italiano dovrebbero mettersi seduti a un tavolo con un soggetto che sostanzialmente al 2029 dovrebbe partecipare come a qualsiasi altro privato all'interno di una gara di concessione. Per me questa è una sciocchezza enorme e che dimostra un totale il vuoto pneumatico da parte della politica perché noi abbiamo tutti gli strumenti legislativi che abbiamo costruito qui dentro per poter dire che la Regione si pone in una condizione di governance politica delle proprie risorse naturali, pone al centro della discussione quelli che sono, ripeto, gli strumenti di legge, la Costituzione della Società Ministro Pubblico Privata su cui lei, Assessore, non mi ha risposto in alcun modo, sarebbe questo strumento non attraverso l'esproprio voletario ma attraverso quelli che sono, ripeto, gli strumenti che ci permette anche la normativa europea, sono 12 volte che annunciate questo accordo di programma per l'ennesima volta, ci aspetteremo nelle prossime settimane l'annuncio di qualche misura spot in bombamagna, ma nei fatti ancora ha parlato di accordo di fatto giunto a compimento, so 10 volte, potrei riprendere tutte le vostre dichiarazioni, ogni volta era giunto a compimento, non è stato giunto a compimento un bel nemato, un ciuffolo, ecco, io penso che ognuno debba fare la sua parte e debba mettersi in condizione di non nascondersi dietro al paravento della geopolitica mondiale, in questo momento, come si dice a casa mia aiutati che Dio ti aiuta, noi abbiamo la possibilità di fare la nostra parte e la Regione deve farla, quindi non è che io devo andare dal concessionario, forse questo magari è il vostro modo di pensare la politica, il fatto che lo Stato debba andare a chiedere con le mani giunte a una multinazionale di dover avere quello che invece ci spetta, ora abbiamo degli strumenti su cui poter operare, nessuno chiede di fare azioni di rottura, ma è evidente che dovete agire, lei non posso ritenermi soddisfatto Presidente, perché non mi ha risposto su nulla, assolutamente nulla.